Ciao Brescia, ciao Lombardia. Io porto con un po' di titubanza e con grande orgoglio il saluto di una grande terra leghista che è la Valle Camonica. Porto il saluto qua a Brescia e alla Lombardia in particolar modo. Orgogliosamente dico perché dal 1990, come ricordavano altri miei colleghi, entrai in Lega, come tanti altri che vedo qua seduti oggi. E questo mi fa molto piacere. Esatto. Grazie Umberto. Iniziai come iniziano tanti di voi, col volantinaggio, con le scritte sui muri, con il gazebo, con tante cose, per passare poi alle sezioni, a coordinatore del movimento giovanile, a vice sindaco del mio paese, arrivando fino a fare il consigliere provinciale. Questo, sempre tenendo in mente e bene al centro, un passaggio. Io lo ricordai anche quando ero consigliere provinciale a Brescia, che prima di tutto qua, prima di me, l'hanno ricordato, ma noi siamo militanti della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Noi possiamo essere vice sindaco, sindaco, assessore, ma prima di tutto siamo i militanti. Perché è grazie ai militanti che noi oggi siamo qua, è grazie ai militanti che tutti i giorni sono a contatto con la gente che critica il nostro operato, e sono i militanti che devono essere riportati al centro. L'indicazione, la direzione che ha preso il nostro segretario federale, Matteo Salvini, è quella giusta. Anche quella che ha preso Paolo Grimoldi, che verrà presto eletto segretario nazionale. Perché è il militante che conta. Io mi è capitato spesso di sentire qualcuno che dice che viene sul mio territorio perché è lì in figura istituzionale. A me scusatemi, ma questa parola davvero mi fa rabbrivedire, perché noi con tutto il rispetto, e scusatemi, ma istituzionali un cazzo, gli istituzionali sono quelli dell'NCD, noi siamo sempre perennemente militanti della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Prima militanti e poi tutto il resto. Quindi prima i militanti, prima il contatto con le sezioni, col segretario, con l'ultimo dei segretari, è più importante, secondo me, rispetto al primo dei nostri sindaci, con tutto rispetto per i sindaci, però prima siamo militanti alla politica della Lega che dobbiamo fare. E questo, mi sembra che sia arrivato il momento, come dice spesso anche Matteo Salvini, che è arrivato il momento non più del singolo uomo in vetta, ma è arrivato il momento del gruppo, della coesione, di essere tutti insieme. E con questo salutandovi e ringraziandovi, vorrei chiudere con un passaggio di Henry Ford, che diceva che mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, ma lavorare insieme è un successo e sarà il successo che ci porterà ancora al governo di questo nostro paese. Viva la Padania, viva Umberto Bossi, viva Matteo Salvini. Grazie.